Lei ha la tassia cerebellare, il megasofago, due malattie rare, gravissime, però anche se non si regge in piedi e non cammina e non può nemmeno mangiare sola. Che c'è amore? Forse gli viene da vomitare. Che hai? Ti senti male amore? Che hai tesoro? Perché sto versetto? Forse gli viene da vomitare. Perché lei ha questa malattia grave, il megasofago, che non so se la conoscete, però è una malattia terribile che purtroppo, avendo l'esofago dilatato, ha difficoltà il cibo ad arrivare allo stomaco. Quindi ristagna nell'esofago e gli viene più facile rimetterlo anziché riuscire a mandarlo giù. Guardate, io sono il piedistallo di questo cattino, non mi posso appoggiare che lui viene e si corica su di me sempre, vedete? Io secondo lui devo camminare così, con lui appresso. Grazie Anna, grazie di cuore, grazie amiche.